Ho mangiato fuori tutto. Che stai facendo te? La nostra cameretta. Inizia l'ultimo giorno. Anzi è già iniziato l'ultimo giorno. Siamo qui che aspettiamo che cosa? Ale? Ale? Amore? Il treno. Cos'è che aspetti? Il treno. Il treno amore. Vediamo se arriva. Vediamo se arriva il treno amore. Andiamo via col trenino. E dopo oggi dove andiamo? Al lago. Col bricon. Come sei? Nel treno. Nel treno. Siamo nel treno. Che bello. Siamo tutti nel treno. Via. La manetta. Ciò ciò. Siamo partiti. Due, tre. Via. Ecco. Qui sta. Qui sta. Siamo nel treno. Eccoci quasi arrivati. Eccoci quasi arrivati. Eccoci quasi arrivati. E. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.